ciao amici come state vi sentite un po appesantiti avete mangiato di più e vi siete mossi di meno molti mi scrivono che hanno messo su qualche chilo e si vedono ingrossati in molti casi non è proprio grasso ma ritenzione idrica una cosa che può aiutare è fare una breve dieta drenante che sgonfia depura e alleggerisce e qui ci pungi proprio sul vivo qualche soluzione vediamo insieme una dieta detox di tre giorni per eliminare i liquidi in eccesso se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video i cibi da prediligere sono cipolle fagiolini verdure a foglia verde asparagi come anche i cetrioli che contengono molta acqua e sono ricchi di minerali e aiutano a eliminare i liquidi in eccesso perché hanno un effetto diuretico i frutti da preferire sono anguria ananas pompelmo fragole e mirtilli insomma bisogna mangiare solo cetrioli e mirtilli ci fai patire la fame no anzi ora vi faccio un regalo un bellissimo menu detox completo vediamo come comporre la giornata tipo per organizzare al meglio i tre giorni di detox colazione una bella tazza di tè verde ricco di polifenoli antiossidanti e drenanti con cereali come fette biscottate o gallette spalmate di miele pranzo un piatto di cereali come riso farro orzo con insalata di carote e cetrioli oppure un piatto di pasta integrale al pomodoro con fagiolini al vapore cena una classica zuppa di legumi con verdure scegliendo quelle drenanti oppure una frittata con due uova e asparagi o carne bianca e verdure verdi cotte come spuntino tra un pasto e l'altro la frutta che aiuta a sgonfiare si può fare sì questo è un menù semplice l'importante scegliere tra tutti gli alimenti drenanti bene amici oggi abbiamo visto come fare una dieta detossinante in pochi giorni per vedere tanti altri video di consigli e ricette per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate se amate leggere in descrizione trovate il link ai miei libri e ebook oggi vi consiglio l'ebook depurati con la dieta detox metto il link in descrizione mangiare bene e fare detox è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vi ricordo che potete sempre richiedere una consulenza per il dimagrimento naturale anche in modalità online trovate tutte le info in descrizione mangia sano e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali iscriviti al canale